c'è un cartonino mancanismo datemi un martello che cosa ci vuoi farlo oddio sono sceso dalla moto cosa hai fatto cos'è fatto cos'è fatto guardate sono sceso dalla moto ma sono sceso da una sono baggato non si può stare e ci sei sono arrivato scendendo dalla moto sono incastrato auto in cap liberami vai giù quantosibili c'è loro elicottero che simile ok 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 libero sono morti sono morti oh oh c'è solo un'esacqua ma culo no oh oh non mi ha visto vuoi provare a investire non ce la faccio aspetta un secondo nooo non lo fanno sempre fuori all'ultimo andiamo cosa stanno facendo cosa cosa fanno non ce l'amere non ce l'amere non ce l'amere che è un po' bellissimo oh mio dio oh mio dio forevertron i want to be forevertron allora perché è uno? ma è finita! non rientrare! non rientrare! ok! ok! non sono rientrato lo giuro non sono neanche guardati i ticket! i ticket! ma chi cazzo è rientrato? è uno che non sa che scalano quando rientri! ancora il gp? non si, si è troppo veloce adesso ho deciso con le minicotte! what? vai, fermati! 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 2 c4! qua! si uccide! che cazzo fai? era tutto intenzionale ragazzi! era tutto intenzionale! devi uccidere il tipo! uccido qua! un attimo! l'ho ucciso! l'ho visto da qua! oh merda! guardati! pesa! vola! vieni a prendere! prendo il chopper, prendo il chopper! ragazzo il chopper! tengo questo! i got this! i got this! no! so skiantato! tranquillo! disattivato! boom! Ufff, dai, dai, capasso, l'hai montata, l'hai montata, l'hai montata, c'è un uomo, c'è un uomo, uomo di che razza, russo o americano, c'è un altro uomo, vieni, vieni a prendermi, ok, arrivo, aspettami lì, t'ho vista, t'ho già vista, Perché io ti ho affettativo, ma chi ti ho affottato, ma chi ti ho affottato? Vieni, 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 come hai fatto a sopravvivere, 25, così tanto? Eh, mancava un proiettivo Ah Mi hai favoritato con l'Ur Per quello non to' finita Per quello non to' finita